Quello che dovrebbe farci orrore è il fatto che questo paese sia ancora la politica che detta ciò che si può guardare o ciò che non si può guardare in televisione. Fazio è da anni criticato per ospitare spesso Saviano, ONG, figure di sinistra e progressiste di varia natura e il fatto che questa voce venga tolta così da diminuire la narrazione di quel colore lì è abbastanza impressionante e ci restituisce un po' il clima che si va appesantendo in questo paese in cui pian piano si fanno fuori le voci dissonanti ma con il silenziatore, con il sorriso augurando loro buona fortuna, ma altrove. E lo so, lo so perché mi è chiarissimo che c'è chi ritiene che il paese non debba andare in una certa direzione e starà festeggiando, ma festeggiare un governo che per ragioni politiche cancela la trasmissione più vista della rete è come rallegrarsi di essersi sabotati da soli un ponte che portava dal proprio paese verso una meta non gradita. Se ne capiscono gli effetti solo dopo, quando ci si accorge dell'impoverimento che non può che essere effetto dell'isolamento innescato dal nascondere, silenziale, zittire quello che non ci piace e far saltare in aria i punti.